In un memorabile convegno indetto al palazzo del governo, sua eccellenza il maresciallo dell'Aria Italo Balbo, governatore generale, ha annunciato a tutte le notabilità musulmane della Libia la consegna fissata per il prossimo 21 aprile dei decreti di cittadinanza e la costituzione nello stesso giorno dell'associazione musulmana dell'Ittorio. Il più vivo entusiasmo e alte acclamazioni al Duce hanno espresso la profonda soddisfazione dei presenti per questa prova di speciale benevolenza data dall'Italia alle fedeli popolazioni arabe e della Libia. Grazie